Nasce Why Buy Evo, la nuova formula evoluta di leasing operativo, creata da BMW Financial Services, che innova l'accesso alla mobilità e ti permette di personalizzare la tua offerta, includendo solo i servizi e i pacchetti che scegli tu. Così potrai essere libero di guidare la BMW dei tuoi sogni, senza dover pensare ad altro, se non al piacere di guidarla. Perché ti basterà scegliere il modello che preferisci, abbinare il pacchetto di servizi che più si adatta alle tue esigenze tra silver, gold e platinum plus e poi salire a bordo e partire. Why Buy Evo, la forma evoluta di guidare.